Buongiorno, mi chiamo Mirko Dido, sono il comandante del motoliotto di Braver, una Amels di 52 metri circa. Abbiamo fatto tre mesi qua al porto Miravello e quello che si può dire è che è un ottimo porto, sicuro, con un'ottima accoglienza, con tutti i servizi in ordine, con delle nuove cose per gli equipaggi, dal punto di vista proprio organizzativo e non ultimo come spese, molto competitivo come prezzi, quindi si può dire solamente bene di questo porto e di una realtà che starà andando sempre più in avanti, proiettata in un modo per accogliere i megaiotti, i gigaiotti che si chiamano, con lunghezze fino a oltre 100 metri.